Cosa ti parla? C'è stella, super drop e... Allora, io! Giovannino! Inglesi? Inglese! Due stelle! Ma perché inglese? Corriere! Ma si chiama inglese? No, inglese! Ah, si chiama inglese? Fai, il cognome inglese! Corriere all'ostella! Poi, togliamo una! Questo qua che si chiama? Corriere all'ostella! Corriere all'ostella! Questo che si chiama limited edition! Che nome è strano? Inglese! Ah, l'inglese non è limited edition! Eh, limited edition è il nome di ragazza! Questo idolo si chiama, ragazzi! È bello di fare questa cosa! Dai, dovete mettere le ali! Ma che senti? Giorginio! Giorginio! Giorginio idolo! Va bene! Poi, vediamo le altre carte minchiette! speri che, vediamo! Perutti! Perutti! Tai indietro! Metti il piano! Sì! Ma quando non si mette più le ali! Masina Masina poi Silve Re Silve Re Silve Re Batman Batman e poi Calè Batelli E poi Batelli Va bene Ciao ragazzi Ciao Ciao Ciao